Ragazzi, rieccoci nel mio canale e benvenuti nella serie che praticamente io reagisco ai video. Oggi reagiremo a un video di uno dei miei youtuber preferiti, è il mio collaboratore, che è XcripDekai. Vediamo. Ragazzi, qui è il Davide del futuro che parla... Ah, sì, è il Davide del futuro, perché si chiama Davide. Soltanto adesso ho scoperto... Ah, ok, ciao Davide. Allora, sono qui per dirvi che prima di iniziare il video, non fate caso che è iniziato senza salutare, però praticamente, non so perché, mi sa che mi ha tagliato... Mi ha tagliato una parte perché è andato nel Google Play, lo so, l'ho già visto venti volte questo video. Peccato che non posso farvelo reagire tutto perché il programma che uso per registrare ha il tempo, ho contato. Mi chiesto la registrazione, bloccasse, diciamo. E quindi, vi dico già che all'inizio ho intenti, stavo dicendo che... Vabbè, questa parte è... Andatemi a vedere il video se la volete vedere, è noiosa. Non è vero. Perché non gioca. Ah, ma è piccola la zona. Vediamo. Cosa da dirvi è tutto e vi lascio al video. Il sprint, ma non quello garantito nel PC. Allora, via cuffie. Ah, ma è piccola la zona. Vabbè, piccola... Vabbè, eh... Cosa? Altro che piccola, già. Ehm... Se stai guardando questo video, per caso, io ce l'avevo. E... Poi l'ho disinstallato perché mi metterò sul computer. Ho fatto qualche episodio. Se vai a vedere i primi video del mio canale, ci sarà qualche episodio. Però direi che lo riporto perché è un gioco bello. Piccola, questa è una bestia. Oh. Raga, non... E se si può, ti richiedo l'amicizia. Però... Non so se si può. Vabbè, casomai ti attacco. Non mi funziona il touch. Gesù morto male. Non mi vuoi il touch, raga. Ho dei pretoni. Do il benvenuto a te e alla tua testa. Ah, questo qua... Io ho fatto il commento. Io ho commentato sotto questo video. Ehm... Ho messo il numeraggio. 1,43. Di quando dico la sua testa e dopo le date. E mi ha messo il coricino. Va bene. Casomai è la vostra. Oh! Rispondi correttamente... 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 Correttamente vincerai dei tappi. Sì, certo. Rispondi in modo errato e perderai la testa. Quale è l'insediamento più vicino a volte 111? Allora, io... Vi dico già che io non ho fatto fallout 4. Non hai fatto fallout 4? Non sei vissuto. Caro escape decai, devi farlo. Qui va e basta dal pc del mio padre. Dal pc di mio padre perché non avevo ancora il mio pc. Quindi fallout 4 non l'ho mai fatto. Solo ho costruito. Quindi... Sanctuari mi sa. Ti prego dimmi di sì? Ti prego dimmi di sì? È sbagliato. Odio quando... No, ma... Hai avuto tanta fortuna. Io lo sto dicendo adesso. Io l'ho già visto questo video. Credici... Lo sto dicendo adesso perché... Magari ci sono dei miei iscritti che non l'hanno visto, sto video. Indovini. Era giusto? No, aspetta! Ragazza era... Oh mio Dio! Ragazza era giusto davvero? Sì, devi stare un po' più calmo. Esattamente. No, perché questo Sanctuari mi... Cioè, mi veniva in mente un nome simile. E infatti era proprio quello. Allora. Scrivetemi sotto nei commenti se siete arrivati a questo punto del video. Intanto un... Robo. Vabbè, ragazzi, cioè... Io l'ho visto tutto cinque volte. Questa è la sesta. Robo. Passate dal canale di Xcripdekai. Link in descrizione. Perché è un po' sponsorizzato. Collaborazione che veramente... Cioè, lui la... Io la dovevo chiedere a lui perché... Lui è troppo... Troppo... Troppo su. Da notare. Ehi, altri due Robi. E di Steam Pack. Comunque grandissimo. Questa è per arrivare a 100 iscritti. Complimenti. Io... Il mio prossimo obiettivo è 50 iscritti. Che sorriso a me. Oggetto. Vabbè, dicevo. Allora, se siete... Oh, non voglio il negozio, grazie. Va bene, ragazzi. Questa qua è la prima parte. Non voglio farla del tutto. Perché non lo voglio. Va bene, ragazzi. Questa video finisce qui. Ragazzi. Mi dispiace che non la posso fare tutta. Però ve l'ho detto. La memoria. Maledizione. Ragazzi, questo video finisce qui. Arriviamo a 5 mi piace per la seconda. E credo pure la terza e la quarta parte. Ragazzi. Ciao.